Buonasera a tutti, siamo pronti per fare il sorteggio della Ryder Coffee che è ormai giunta alla nuova edizione, sono già parecchi anni che la facciamo e quest'anno è organizzata un po' sulla falsa riga della Sardler Cup che abbiamo fatto l'estate scorsa e quindi ci sono dei gironi preliminari, insomma voi potete vedere il regolamento che è già pubblicato sul nostro sito. Adesso faremo il sorteggio in questa maniera, sorteggeremo i giocatori della quarta fascia e della seconda fascia di handicap perché ogni girone è composto da quattro giocatori già suddivisi per fasce di handicap, anche queste le trovate pubblicate sul sito. Quindi l'estrazione, cercheremo di andare un po' veloce per non appesantire il video nella lunghezza intendo e procederemo in questo modo, prima si estrae il girone di appartenenza e poi i due giocatori. Al termine di questo primo video ne faremo un altro e verranno estratti invece i giocatori che appartengono alla prima e terza fascia. L'unica cosa che volevo ricordare è che questa prima fase inizia venerdì prossimo, il 15 marzo e termina il 10 maggio, quindi ci sono praticamente quasi due mesi pieni per disputare gli incontri e cosa importante, di ogni girone formato da quattro giocatori passano al turno successivo in primi tre. Insomma c'è una buona opportunità per gran parte dei giocatori. Come è scritto sul regolamento. Trovate tutto sul sito, sul regolamento, troverete anche il risultato finale di questo sorteggio sul sito, però prima di pubblicarlo in forma testuale lo anticipiamo con questo video, per cui chi ci ha pazienza di vedere il video può avere le informazioni prima della pubblicazione. Va bene, bande di cianci e facciamo questo sorteggio. Prima estrai il girone. Il girone H. Sperando che si legge comunque. Nel girone H, partiamo col primo giocatore della quarta fascia, del girone H, che è Tiziana Fiorini. Quindi scrivi nel girone H, Tiziana Fiorini, che è la giocatrice rappresentante la quarta fascia di questo girone. Per la seconda fascia del girone H, sempre nel girone H, Michele Cicco di Cola. Perfetto, dai. Vai sempre tu a scrittura. Io ci sto un po' prima. Esatto, esatto. La prima del gruppo. Allora, prendiamo prima il girone. Adesso parliamo del girone F. Girone F. Vado col giocatore di quarta fascia del girone F che è Paolo Ridolfi, grande Paolo e della seconda fascia fa compagnia Ridolfi Maurizio Sardelli. Maurizio Sardelli che è il vincitore della San Mercato. Esatto. Allora, andiamo avanti. Girone D. Girone D è composto da, attenzione, attenzione che leggo, Danilo Staffolani. Girone D, girone di Danilo. Grande Danilo. Che incontrerà il giocatore di seconda fascia, Real Madrid, Salvatore Donato. No, cos'è grande. Ma questo è già un bel match, eh. Passiamo al girone E. Girone E. Mieke Van Elmond. Speriamo di averlo pronunciato bene. Vai con l'altro giocatrice dell'Oasi. Ricordiamo. E nello stesso girone abbiamo Giuseppe Caggiotti. Giuseppe Caggiotti. Perfetto. Bravo Giuseppe. Adesso, girone A. 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 Girone A. Vediamo. Un'altra giocatrice. Marcella Alle Cruci. Marcella Alle Cruci. Giuseppe. Perfetto. Sono rimasti gli ultimi tre gironi. Adesso andiamo avanti col girone G. Girone G. Patrizia Scollato. Questo è il G. E il giocatore di seconda fascia. Sergio Mortera. Guarda Sergio. Stai a suono e stai a capire come gli pare. Allora. Girone B. Gli ultimi due gironi. In B. In B. In B. Lazzio. Questo è un'altra giocatrice. a fare. Non lo sento bene. Più forte di me. Scusate. Antonio Bocchetti. Antonio Bocchetti. Ma del passato non c'è stata l'altra giocatrice. È più forte di me. Il secondo giocatore di seconda fascia è G. Giorgio Battisti. È rimasto il girone C. Eccolo qui. E sono rimasti i giocatori. Allora per la quarta fascia Giuliano Nanini. Eccolo. Per la prima fascia. Per la prima fascia. No. Per la seconda fascia. Per la seconda fascia. Allora. Pia Giorgio Biscari. Giorgio Biscari. Perfetto. Qui chiudiamo il primo video perché ricomponiamo le tazze con i giocatori e i gironi. Aggiungendo la fascia. La prima e la terza fascia. E comprendiamolo tutti. Giorgio Biscari.